Che bell'attacco che ha il 26esimo canto dell'inferno, certo non sono io a scoprirlo, un attacco solenne ed è uno dei canti più conosciuti e più straordinari di tutto il poema. Comincia con un severo anatema, godi Fiorenza poiché sei si grande che ha una sua maestosità musicale, se la prende con Firenze dicendo ho visto ben 5 ladroni fiorentini nella precedente Borgia ma ti puniranno altri, soprattutto quelli di Prato, qui c'è un accenno alla forte rivalità fra Firenze e Prato. Ad ogni modo Dante e Virgilio risalgono la china che avevano sceso i borni, cioè eburne, i bianchi di paura, si affacciano su una piana, su una conca che brulica di fiammelle accese, le quali vengono paragonate da Dante alle lucciole che il contadino vede dall'aia nella vallata. È un canto ricco di bellissimi paragoni, fra cui quello del profeta Eliseo è descritto come colui che si vendicò con gli orsi, facendo sbranare dei ragazzi che l'avevano insultato. Il paragone è che questo Eliseo vide le fiamme del carro di Elia come se fossero una nube di vapore che si spargeva nel cielo. E poi qui entriamo nella parte più conosciuta e più alta del canto. Dante osserva un'arca dove ci sono due fiamme un po' commiste, Virgilio gli dice che si tratta di Ulisse e Diomede puniti per il loro inganno, consiglieri fraudolenti, l'inganno del cavallo di Troia e dice lasciamici parlare a me prima perché sono gente particolare fuor greci, sono greci, quindi anche dialetticamente andiamo piano. E qui viene il sublime racconto di Ulisse che tutti conoscono, l'Ulisse che al termine della sua vita ancora non sazio di avventura e di conoscenza riarma la sua nave con i figli compagni e va oltre le colonne di Ercole, quindi superando anche i limiti messi all'uomo dalla provvidenza, non curandosi degli affetti dei figli, del padre, della moglie e cerca l'inesplorato, l'impossibile. Avvistano una terra sconosciuta, la breve gioia della scoperta e poi la catastrofe, una tempesta che inabissa Ulisse e l'equipaggio. Questo Ulisse chi è? C'è una letteratura immensa, chi è? Un avventuriero che in Franse appunto le leggi e fu giustamente punito, un sacrilego anche lui, come sostennero per esempio il Tommaseo, Pietro Bono e tanti altri, oppure un vero splendido eroe della conoscenza. È che c'è un po' di tutto, è che è una creatura poetica straordinaria, la quale infatti ha ispirato, come è ben noto, un'infinità di copie o di riprese. C'è un bellissimo poemetto per esempio di Tennyson, Borges ha scritto un saggio stupendo facendo un raffronto, di cui io poi in un mio lavoro precedente ho tenuto conto, cioè un raffronto fra l'Ulisse dantesco e il capitano Aqab del Moby Dick di Melville, naturalmente con una differenza che anche Aqab è vero, porta per voglia di coraggio e di conoscenza alla rovina se è l'equipaggio. Ulisse fa altrettanto, ma è guidato da una sete di conoscenza superiore e Dio, il destino celeste che lo aspetta, lo proteggerà e darà un senso al suo sacrificio e alla sua avventura. Godi Fiorenza, poiché sei si grande che per mare e per terra batti l'ali e per lo inferno tuo nome si spande. Tra li ladron trovai cinque cotali i tuoi cittadini, onde mi vien vergogna e tu in grande orranza non ne sali. Ma se presso al mattin del vero si sogna, tu sentirai di qua picciol tempo di quel che prato non cal tritagogna. E se già fosse non saria per tempo, così fossei da che pur esser dè che più mi graverà con più ma tempo. Noi ci partimmo e su per le scalee che n'avea fatto i borni a scender pria, rimontò il duca mio e trasse me. E proseguendo la solinga via, tra le schegge e tra i rocchi dello scoglio, lo pie san Salaman non si spedia. Allor mi dolsi e ora mi ridoglio, quando drizzo la mente a ciò che io vidi. E più lo ingegno a freno chi non soglio, perché non corra che virtù non il guidi, sicché se stella bona o miglior cosa, ma dato il ben, che io stesso non mi invidi. Quante il villan calpoggio si riposa, nel tempo che colui che il mondo schiara la faccia sua a noi ti è meno ascosa. Come la mosca cede alla zanzara, vede lucciole giù per la vallea, forse colà dove è vendemmia e ara, di tante fiamme tutta risplendea. L'ottava bolgia, siccome io m'accorsi, tosto che fui l'auve il fondo parea. E qual colui che si vengiò con gli orsi, vide il carro dell'ia al di partire, quando i cavalli al cielo erti le borsi, che non potea sì con gli occhi seguire, che il vedesse altro che la fiamma sola, siccome nuvoletta in su salire, tal si muove ciascuna per la gola del fosso, che nessuna mostra il furto e ogni fiamma un peccatore in vola. Io stava sovra il ponte a vedere surto, sì che se io non avessi un ronchion preso, caduto sarei giù, senza essere urto. E il duca, che mi vide tanto atteso, disse «Dentro dai fuochi son gli spiriti, catun si fascia di quel che gli è inceso». Maestro mio, risposi io, per udirti, son io più certo, ma già m'era avviso che così fosse. E già voleva dirti, chi è in quel fuoco che vien si diviso di sopra, che par surger della pira dove Eteocle col fratel fu miso. Rispose a me, là dentro si martira Ulisse e Diomede, e così insieme alla vendetta vanno come all'ira, e dentro dalla lor fiamma si geme l'agguato del cavall che fe' la porta, onde uscide i romani il gentil seme. Piange visi entro l'arte perché è morta, dei da mia ancorsi duol d'Achille, e del palladio pena vi si porta. Se i posson dentro da quelle faville parlar, dissi io, maestro, assai tempriego e ripriego che il priego vaglia mille, che non mi facci dell'attender niego finché la fiamma cornuta qua vegna, vedi che del disio ver lei mi piego. Ed egli a me, la tua preghiera è degna di molta loda, e io però l'accetto, ma fa che la tua lingua si sostegna, lascia parlare a me chi ho concetto ciò che tu vuoi, che i sarebbero schivi perché i fuor greci, forse del tuo detto. Poiché la fiamma fu venuta quivi, dove parve al mio duca tempo e loco, in questa forma lui parlare audivi. O voi che siete due dentro ad un foco, s'io meritai di voi mentre ch'io vissi, s'io meritai di voi assai o poco, quando nel mondo gli alti versi scrissi, non vi muovete, ma l'un di voi dica dove per lui perduto a morir gissi. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella cui vento affatica. Indi la cima qua e là menando, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse, quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più d'un anno là presso a Gaeta, prima che sì e né alla nomasse, né dolcezza di figlio, né la pieta del vecchio padre, né il debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta, vincer potero dentro a me l'ardore che io ebbi a divenir del mondo esperto e degli vizi umani e del valore, ma misi me per l'alto mare aperto, sol con un legno e con quella compagna picciola, dalla qual non fui diserto. L'un lito e l'altro vidi, infine la Spagna, fin nel Marocco e l'isolo dei Sardi e l'altre che quel mare intorno bagna. Io e i compagni eravamo vecchi e tardi, quando giungemmo a quella foce stretta, Overcole posò i suoi riguardi a ciò che l'uomo più oltre non si metta. Dalla man destra mi lasciai Sibilia, dall'altra già m'avea lasciato setta. O frati, dissi, che per centomiglia perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto piccola vigilia dei vostri sensi che è del rimanente, non vogliate negare l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e canoscenze. I miei compagni feci io si acuti con questa orazione piccola al cammino che appena poscia li avrei ritenuti. E volta nostra prora nel mattino, dei re mi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino. Tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte e il nostro tanto basso che non sorgeva fuori del mar in suolo. Cinque volte era acceso e tante casso lo lume era di sotto della luna, da che entrati eravamo nell'alto passo quando ne apparve una montagna bruna per per la distanza e parveni alta tanto quanto vedute non ne avevamo alcuna. Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto che della nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto. Tre volte il fegirà con tutte l'acque, alla quarta a levar la poppa in suso e la prora a ire in giù. Come altrui piacque, infinché il mar fu sopra noi richiuso. Grazie per la visione!